In questo tempo di Natale, sia che partecipiamo in Chiesa alla Novena, ma anche quelli che ascoltano musica natalizia, spesso noi sentiamo e torniamo ad essere bambini con tutti i canti del Natale. Ma in particolare c'è un canto su cui io vorrei riflettere oggi, Vigilia di Natale 2018, la Deste Fidelis. A un certo punto noi cantiamo e diciamo questa frase, come non riamare uno che ci ha amato tanto. Ecco, chissà quante volte noi abbiamo cantato da piccoli, ma anche ora da grandi, questo canto natalizio. E chissà quante volte abbiamo detto, come non riamare uno che ci ha amato tanto. Io penso che il Natale deve tornare a essere l'occasione, l'opportunità dell'anima per poter riamare uno che ci ha amato tanto. E chi è questo uno che ci ha amato tanto, se non questo Dio che si è fatto nel figlio Gesù bambino, questo Dio che si è fatto uomo solo per amore, solo perché ci ama tanto. Questo Dio che per amore poi ha vissuto come tutti gli altri bambini, si è fatto grande, adolescente, è stato sottomesso nel figlio Gesù ai suoi genitori, ha vissuto la cultura del tempo, ha vissuto le tradizioni religiose del suo tempo. Cioè si è adattato a noi uomini in tutto, eccetto nel peccato. Ma questo amore di Dio poi si è espresso sulla croce. Questo Dio che si fa bambino muore nel figlio sulla croce perché ci ha amato tanto. Vorrei che in questa giornata ci ricordassimo di questo amore di Dio. E dentro di noi pensassimo a come riamare colui che ci ha amato ma che continua ad amarci tanto. È un po' come quando noi avvertiamo, tocchiamo con le mani, sentiamo che le persone che ci amano, ci amano veramente tanto e poi ci chiediamo come posso fare per riamarlo. Ecco, Natale è soprattutto questa inquietudine che dobbiamo avere dentro. Questo domandarci, questo chiederci come fare ad amare Gesù. Come fare ad amare questo Dio che ci ha dato tutto, che ci dà tutto. Nonostante i problemi, nonostante le sofferenze, nonostante le malattie, nonostante le difficoltà della nostra vita. E allora prepariamoci all'evento di questa notte, soprattutto per chi potrà partecipare alla messa cosiddetta di mezzanotte. Prepariamoci a vivere questo mistero del Natale desiderando quell'amore che ci fa riamare un Dio che ci ha amato tanto. Un Dio che continua ancora oggi ad amarci tanto. Buona vigilia di Natale, io vi aspetto domani. Padri Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.